ciao a tutti sono qui con il sesto mini album dei day six del book of us del demon e ho amato zombie penso che sia una delle mie preferite dei day six non mi ricordo che versione sia ce n'era una così e una con la rosa in realtà mi piaceva di più quella con il fiore però l'ho presa random quindi non ho potuto scegliere allora faccio vedere qua ci sono la tracklist acqua solo tolgo vi faccio dell'ora perché erano faccio vedere con le foto capi che non vedo che io ho anche le foto per dentro trovo se trovo retro Mi è dispiaciuto un sacco per i D6 che non hanno potuto promuovere l'album per problemi di salute davvero. È stato davvero brutto. Grazie a tutti. Qui abbiamo il segnalibro fatto a corvina. Oh, un piede. Ok. Mi piace un sacco queste foto in movimento. Con solo suono messo a fuoco. Allora, qui abbiamo il cd. E poi, adesso vi faccio vedere il resto. Se riesco a chiuderlo, sì. Abbiamo questo che è random e ho trovato. Niente, questa era la copertina. E poi abbiamo la postcard che anche questa è random. Ah, Yon K. Io trovo sempre lui. O Jay, sempre. Strano, infatti, l'ho trovato lui. Poi abbiamo questa, che è il... non so come si chiama. Do Won. Do Won. Questo è il mio secondo bias. Do Won. Mi piace un sacco. Do Won. Won. E... Che bella che è. E la photocard che c'è un wonpil qui dietro. Ah, è una unit. Ho trovato Sojin, Yon K. Ed un won ancora. Pensavo ci fosse la photocard. E poi vi faccio vedere il preorder. Ragazzi, sono stata male perché ho trovato un wonpil. Non potevo crederci. Io in preorder ho sempre trovato Jay. sempre. C'è. Wonpil è il mio bias. Io sono morta. Morta. È troppo bello. E niente. Sono troppo felice. Anche dove ho trovato i miei due bias. Bene, per questo unboxing è tutto. E noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!